Ultimo arrivato in casa a Vigor Lamesia, come è nato questo contatto con la Vigor? Io sono stato tre anni a Teramo, l'anno scorso all'ultimo giorno di campionato mi sono rotto il crociato e poi tramite il mio procuratore, il direttore Donnarumma, è nata questa cosa e sono arrivato anche se all'inizio prima di farmi male avevo firmato un triunale a Benevento poi dopo è stata mia sfortuna, l'ultimo giorno di campionato mi sono rotto e ora ho recuperato, sto bene, è nata questa cosa, la prendo ben volentieri spero che nel momento in cui filmerò sarò dare una mano alla mezza per portare appresso questa salvezza e poi spero che ci salviamo tranquillamente Fino a poco fa eri in condizioni, sei allenato? Sì, sì, mi sono allenato ad Aversa Norman, con l'Aversa e poi tramite il direttore abbiamo dato una parola al direttore siccome prima del giocatore c'è l'uomo abbiamo dato una parola e nel momento in cui mi hanno chiamato sono salito sopra Cosa sai di questa vicolo? Sai che deve lottare per la salvezza quindi tu sei del sud, è un girone difficile, te lo conosci bene Sì, io sono del sud, è una squadra che deve lottare per la salvezza però comunque io conosco grandi giocatori, ho giocato con Giacomo, Filippi, a Teramo conosco Antonio che è un compaesano, Amita, sì c'è il ragazzo, Panico, è una squadra che sicuramente si trova là però secondo me uscirà fuori alla grande Tuoi caratteristiche? Difensore centrale o puoi giocare anche esterno? Sono un difensore centrale ma anche adattato a destra Cosa è la tua prima impressione di essere venuto qui alla mezza? No, a me mi ha dato una grossa impressione anche a livello dirigenziale delle persone eccezionali ma pure di una squadra subito mi hanno accolto alla grande un gruppo favoloso, spero solo di far bene e portare il mio mattoncino a fine anno alla vicola mezza Grazie, prego